Vicenza Oro chiude i battenti ed è stato un successo sotto il fronte della sicurezza. Un dato è emerso quando l'ultimo degli oltre 1200 espositori da 132 paesi ha lasciato Vicenza. Coordinato dal questore Paolo Sartori, infatti, il sistema è impegnato nell'arco dei 5 giorni uomini e mezzi di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, ma anche reparti speciali, squadre antiterrorismo, artificieri e gli elicotteri del reparto di Venezia. Per la prima volta sono state impiegate le speciali unità cinofile della Guardia di Finanza, abilitate a individuare il denaro contante, identificati numerosi soggetti, alcuni dei quali con precedenti penali, che si aggiravano con atteggiamenti sospetti. Complessivamente 5 cittadini sudamericani, un romeno e 6 italiani sono stati fermati, alcuni in possesso di grossi cacciaviti, guanti di lattice e un martello frangivetro. Tre di essi sono stati arrestati e tutti denunciati. Nel corso delle operazioni identificate 526 persone, di cui 141 stranieri e 82 con precedenti penali, e controllati 294 veicoli. In quest'ora è adottato questi provvedimenti, 11 fogli di via obbligatori, 8 avvisi orali, 4 ordini di allontanamento dall'Italia.